RISPONDA, RISPONDA, BANITO L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA No, 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 senza Ipsi Ciccio gamer ragazzi me volete male Ah, ho capito chi è Parliamo del tragico incidente d'auto causato da quei due youtuber che volevano fare quella geniale challenge Parliamone, sì, parliamone perché questo episodio ci dice tantissimo su come funziona il mondo del web oggi E come funziona il mondo dello spettacolo in generale oggi Se tu non sei bravo ad intrattenere, a comunicare, a dire le cose, ad interessare le persone, ad emozionare le persone Insomma, se non sei bravo a fare niente, non importa, stai tranquillo Anche tu puoi diventare comunque una star, puoi diventare famoso Anche a te chiederanno le foto in Duomo E sai come? Beh, è semplice Se non sei capace di intrattenere con quello che dici, sarà sufficiente intrattenere le persone con quello che fai Ti basterà fare la cosa Oddio scusa Pino a se stesso Aspetta, tanto me lo rimetto Cioè lui sta dicendo io sono bravo e questi qua sono stupidi E poi avanti, poi avanti perché ci sono pezzi peggiori Che fai? Ti basterà fare la cosa più assurda, più stupida che ti venga in mente E metterla a un video In una live In un TikTok Tipo Gursi Il gioco è fatto L'importante è che ti spingi più oltre di quanto si sono spinti quelli prima di te Tranquillo Funziona Fidati Sono andato in questo posto Ho incontrato quella persona Mi hanno beccato a fare questa cosa Oh no Assurdo Click Like Il multiverso La collab che nessuno si aspettava Il multiverso Lui trolla di solito Ma in questo momento no È serio È comunque una vicenda di cronaca nera In questo caso Lo sta trollando Non capisco in realtà Di cosa si stia lamentando Io ho letto un bel commento però Tra virgolette Parliamo dell'incidente Eh non fai Vai avanti Io Non ho fatto niente di straordinario nella mia vita Però sono qua Le persone in una certa fascia di età Mi conoscono tutte quante I ragazzini Mi fermano per strada Ogni due per tre Con la luce negli occhi Dicendomi Pietro ti amo Sei il mio idolo Sei un grande Mi hai fatto rimorchiare con la persona Mi hai aiutato in quella cosa Mi hai strappato un momento di felicità Per me Questa cosa Unita al fatto che con i video io ci campo È sufficiente A me basta questo Non importa se il mio momento massimo Di picco massimo su TikTok Non ho monetizzato centinaia di migliaia di euro Si ma si rende conto che imbarazzo Cioè sta continuando Poi la luce negli occhi Pietro sei la mia vita Cioè Veramente io quando l'ho visto ho detto No secondo me sta trollando Sul serio Però poi ho visto delle risposte anche critiche Da parte di altri suoi colleghi Non mi pare un troll E anche fosse un po' di cattivo gusto sarebbe Perché comunque Qualora fosse un troll Stai comunque a parlare di te Su una vicenda come al solito Ma della vicenda non ha parlato minimamente Perché era solo clickbait all'inizio Poi in realtà C'era pure la copertina C'era pure la copertina Con le macchine Per dire Loro hanno bisogno di fare Di uccidere i bambini Per diventare famosi E siamo tutti d'accordo Sullo squallore di certi video Perché non sono bravi come me Ah ok Perché non hanno le abilità che ho io Che sono questa Questa Ragazzi Gasman ha ragione Basta Basta Non dobbiamo più guadagnare noi Su youtube Su tiktok Gasman ha ragione Ha ragione L'Italia non importa A parte che mio padre In televisione Ci ha lavorato per 50 anni Ma sti cazzi di tuo padre È l'ecocentrismo ragazzi Ma funziona Funziona È però È stato troppo secondo me L'hanno blastato Perché è troppo A parte che lui era lo stesso Che Vabbè Ha sbagliato perché Cioè Ha detto che avrebbe Ha parlato di una cosa Invece che di se stesso Ma in realtà Oppure parlate di se stesso Ma non in questo caso La gente parla continuamente Di se stesso Non c'è nulla di male Quindi i tempi Dell'intrattenimento Sono lunghi Non bisogna fare tutto subito Tempo al tempo Ma al di là di questo Non importa Io sono felice così Perché io Sono arrivato qua Con quello che dico Con il mio tone of voice Il mio modo di parlare Il mio modo di intrattenere Non scrivendo Pietro Storti È andato su un aereo A fare le capriole Oh mio dio Ho incontrato Sì ma posso dire una cosa Amor di là di tutto Poi è arrivato qui Cioè nel senso Sì Stai in cameretta No ma non è questione Cameretta non cameretta Non è che c'è uno storico Di due tre quattro cinque anni Di grandi successi Sì hai avuto Notorietà su tiktok Per dei video anche divertenti Molti Beh ho capito Ma non mi sembra Un esempio Di grande lavoratore Del web Da portare Vediamo tra cinque anni Stai in egotrip Potremmo dire Però soprattutto ripeto Un egotrip del genere Sti cazzi Lo concediamo Ma perché mettere in mezzo Sta vicenda Questo è ciò che Descriveva Frank Matano All'ennesima potenza Proprio Usi una disgrazia In realtà Per parlare di quanto Sei bravo E onorevole Io sono arrivato qui Grazie al mio tone of voice È questo che alla fine Si intende Per egocentrismo È che ogni cosa Che accade Nel mondo La sfrutti In realtà Per parlare di te E la sfrutti Appunto Per innalzarti Comunque In questo caso Se il suo intento Era di parlare Dell'incidente E andando a ruota libera Si è finito In questo vortice Significa che Stai in un egotrip Gigantesco Se proprio c'è Tu hai l'intenzione Di parlare di una cosa Ma vieni dirottato Da te stesso È proprio quello L'idea di te stesso Secondo me Lui non se ne rende Neanche conto È proprio quello Il problema Siamo arrivati a un punto Che certa gente Deve parlare Di altre persone Ma l'unico modo È parlare solo De si stesso Che parlare di quella cosa È una malattia Purtroppo Non può comunicare Comunque Il soprannome È azzeccatissimo Com'è il soprannome Io lo chiamo Storti con la Y Soprannome Veramente azzeccatissimo Se fosse mio amico Tipo Morty Che vuol dire No come Morty Tipo Shorty Ah Shorty Storty Storty Multiverso Io sono un content creator E ne sono certo Al cento per cento Voi E sappiamo perfettamente Di quali personaggi Stiamo parlando Non siete content creator Voi non create contenuti Perché? Create scandalo Create solo stupore Fino a se stesso Create soltanto fumo E soltanto fuffa Non siete E questo è quello E questo è quello che lui Pensa di se stesso Ma ha paura Che gli altri Glielo digano Qualche volte Avrà ripetuto io? Guardate Guarda Guarda Tu non sei Meno di quanto Questa è la sua insicurezza Ed è il suo Peggior incubo Che qualcuno gli dica ciò Non siete content creator Voi non create contenuti Create scandalo Create solo stupore Fino a se stesso Create soltanto fumo Ma non sei tu quello che ha detto Un cazzo di minuto fa Che bisogna avere l'abilità Di parlare del nulla Solo attraverso la propria voce L'ha detto lui Cioè fuffa Cioè fuffa Che lui sicuramente Gli tiene fuffa Ma infatti Il tuo ragionamento Ritorna tantissimo Ma ci sta È solo che non devi Non per cazzo all'alti Per credendoti di essere migliore Lui qui sta capendo In realtà Tutti vendiamo cazzo di fuffa Cristo Dio Ricordiamocelo È Oh 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 A qualcuno Lo entratterrà pure Lo entratterrà pure Questo Oh 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 È fuffa È giocare È lavoro di prestazione Prestigio Ogni tanto bisogna Calare pure questa cosa Ora ritorniamo al prestigio Vai è tutto importante Che ha detto Pietro Storti Che ha detto È importantissimo Isaminiamo È tutto importantissimo Hai buttato giù Una cinquantina di pareti Sì No 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 Bello bello Vai Stato duro Ops Tanto fuffa Non siete creatori di contenuti Siete creatori di fuffa Ed è colpa vostra Se degli youtuber Pensano Che sia intelligente In un qualche modo Cercare lo scandalo Con queste soluzioni Cercare il titolo Ad effetto Con queste soluzioni Ognuno cerca De campate Fa qualcosa di bello Con le proprie abilità Ok Questo è internet Non ce la devi avere Con qualcuno Sentirti meglio Perché io vendo la fuffa Meglio di te Sì Non è una gara Non è una gara Secondo me Nel senso Va fatta una distinzione Per me Vendere fuffa Ha una definizione Ben precisa Nel senso Persone che ti promettono Delle cose che poi non ti danno Parliamo di truffe Io No 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 Nel senso Quello che Lo capisco perfettamente Lo capisco perfettamente E sono d'accordo con te Anche perché Se ci pensi Ma non è più codardo Questo video Di un video Dei The Borderline Ma certo Ormai Se non è più codardo Perché stai facendo Col senno di poi Col senno di poi Ti stai attaccando A qualcosa che ha fatto scandalo Parlando Di te stesso Senza aggiungere niente di costruttivo Senza fare critiche sensate Anche loro sbagliano Chiaramente a fare Un determinato tipo di video Come tanti altri Secondo me è peggio questo È un win-win Se te vince sicuro Ma poi ha perso Perché è anche uno scarso comunicatore Contrariamente a quanto detto Nell'Incipit Un comunicatore Sai cos'è l'Incipit Jeffrey Kamer Ma come no Ha detto grazie alla mia abilità Da content creator Grazie al mio tone of voice Grazie a ciò che dico Vabbè ma la gente Nel 2023 Si può identifica Pure in un unicorno Il fatto che lui Si identifichi in questo Non significa che lo sia Ma secondo me I The Borderline Sono allora content creator Assolutamente A parte che per definizione Sono content creator Punto Poi secondo Pietro Stortio Che siano content creator Di merda Va bene Non è un problema Cioè lui magari voleva Distaccare la categoria Cioè se avesse detto Io come youtuber Mi sento offeso Che vengano portati Questi contenuti Da anche altri youtuber Però solo oggi Solo perché Ma è morto il ragazzino E te sei svegliato oggi Comunque pure Una cosa un po' Diciamo che tra l'altro Lui non mi sembra Però non è questo il discorso Non lo prenderei Come alfiere Dei content creator italiani Pietro Storti Ripeto Nonostante faccia una cosa Anche dignitosa Di video divertenti Fa video comici Lui di solito Sì 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 Ma a me non dispiace Neanche come content creator Però questa roba È imbarazzante Quindi Boh Non lo so Era difficile Perché partiva come una cosa Cioè Eh ma vedi Come fai a sbagliare Perché Marco quello che ti dicevo prima Perché tutti Si stanno facendo prendere No Dalla voglia Di mangiarsi la notizia E diventare più importanti Della tragedia Del bambino morto Sì sì Che Anche una cosa super sensata Come sto criticando Un video di merda Un atteggiamento di merda Gente che fa dei video Senza badare Al codice della strada Come l'abbiamo detto noi In mille altri casi Però adesso Si sta esagerando Quindi fa il giro E diventa pure assurda L'assurdo L'attacco di questo tipo E la cosa divertente È che tutte le volte In cui noi ci siamo permessi Di criticare Senza morti in mezzo Dei video problematici Noi eravamo i bumeroni Ah ma te stai preoccupato Ma non sapete divertirvi Corsi Vabbè stai un po' Al volante in macchina E spara con Il fucile Che problema c'è Tanto so de plastica So de gomma Non fanno niente Vabbè ma Donalì Ma che fate male Poi quello stava Sul cazzo a molti Quindi ok Però C'avete rotto i coglioni Ma pure con Elia Con Elia beve Lì parliamo un po' Di estremismi Però io me lo ricordo Molto bene La live su Corsi E i commenti sotto Nei fributti Ma guarda sti bumeroni Ma si divertono Ma che hanno fatto Non ho messo la maschera A parte il fatto Che anche lui Sta passando dei guai Adesso Per cose esterne A Youtube Ma pertinenti Alla sua condotta Però adesso Che c'è il morto De mezzo Tutti si svegliano Quindi non siamo più Cacacazzi O rimaniamo delle merde Sul trespolo Che criticano e basta Ma come Tutti a criticare Cicalone ha fatto Il video su sta cosa E quindi sta sul trespolo Perché non stava sul posto Oh Davvero Svegliatevi Siamo l'unici cacacacazzi Incoerenti di merda Mi avete rotto il cazzo E mi avete rotto il cazzo Anche perché adesso aprirò La puntata di Muschio Selvaggio Leggerò 780.000 commenti Di merda Di gente che manco L'ha vista la puntata Detto ciò Ciao Hello Clochard